Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale la dedichiamo all'avvertenza Gela. Ieri missione romana del sindaco Domenico Messinese e del suo vice con delega allo sviluppo economico Simone Siciliano. Si è parlato nella capitale tra l'altro anche dei lavori al porto rifugio. Trasferta romana ieri per il sindaco Domenico Messinese e per il suo vice con delega allo sviluppo economico Simone Siciliano in merito alla risoluzione dell'avvertenza Gela. L'avvio degli avvisi per rigenerare il tessuto produttivo locale e l'accordo di programma per tracciare il dopo petrolchimico, ha detto il sindaco, sono i traguardi finiti sul tavolo di ben quattro ministeri e della regione siciliana. Il prossimo 2 febbraio questi argomenti troveranno la sintesi al centro di un confronto tra il gruppo di coordinamento e controllo per l'area di crisi industriale complessa, istituito poco dopo il mio insedimento, la regione e i ministeri alle infrastrutture, lavoro, ambiente e sviluppo economico. L'iter del protocollo d'intesa e robustito dalle nuove richieste avanzate dalla giunta messinese, ha dichiarato l'assessore siciliano, passa anche per lo stanziamento di parte degli oneri di compensazione per il porto. L'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ci ha rassicurati, ha detto siciliano, che nel giro di pochi giorni verrà emesso il parere per il piano di caratterizzazione del porto a rifugio, in modo da avviare subito dopo la caratterizzazione e finalmente il cantiere per il dragaggio. Una buona ed attesa notizia per il settore della pesca incardinata in uno scenario di sviluppo più ampio, che ci vedrà a giorni attorno al tavolo per l'area logistica integrata con Augusta, Catania e Messina, ha detto ancora siciliano, in cui si pianificheranno gli investimenti per la rete portuale del Mediterraneo, in cui Gela è entrata a far parte. A breve avremo contezza anche degli studi economici eseguiti in questi mesi da Eni e dalle associazioni di categoria per la realizzazione degli impianti per la produzione e distribuzione del gas naturale liquefatto, mentre apprendiamo con soddisfazione la notifica dell'autorizzazione regionale all'impianto di steam reforming che farà di Gela la raffineria Green d'Italia. In questo modo la realizzazione della bioraffineria potrà essere avviata da subito con la finalità di riassorbire finalmente i lavoratori dell'ex indotto. Il prossimo 7 febbraio invece si porterà al tavolo palermitano il progetto di riutilizzo delle acque reflu e depurate per usi agricoli e assieme al presidente della regione daremo ristoro, dice Siciliano, alle stanze degli agricoltori per l'impiego delle quote eccedenti non più in uso alla raffineria dell'acqua dell'invaso Ragoleto. Ad un anno dunque esatto dalla mobilizzazione per la vertenza Gela, ha concluso il vice sindaco, la città è passata dalla piazza alle sedi decisionali che hanno il potere di mutare una dramma sociale in una prospettiva economica concreta e sostenibile. Se tutto questo è stato possibile e adesso si avvia alla sua concretizzazione, aggiunto infine il sindaco messinese, lo si deve alla forza del dialogo e della concertazione che in questi mesi abbiamo dimostrato a più livelli senza steccati strumentali, forti dall'unità di intenti espressa dal Consiglio Comunale e di quei segmenti sociali il cui unico interesse è quello di vedere ripartire il territorio gelese. Cambiamo argomento, rotta di fuoco la scorsa notte a Gela, in via Casidina, nel quartiere Fondo Iozza, le fiamme hanno interessato una Smart e danneggiato una Fiat Punto ed annerito il prospetto di una abitazione. Le vetture appartengono ad una donna e ad un operaio. In via Margi il fuoco ha distrutto la Smart di un altro operaio. In entrambi i casi le indagini sono state avviate da polizia e carabinieri. I carabinieri di Gela hanno arrestato Igland Bodinaco, 26 anni, pluripregiudicato, disoccupato albanese. Durante il controllo del territorio nelle zone particolarmente sensibili della città, i militari hanno fermato quattro persone intente ad interloquire nelle adiacenze di un bar. Fra loro c'era anche Bodinaco, personaggio noto alle forze dell'ordine. Il giovane, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, più volte sorpreso in compagnia di altri pregiudicati, negli ultimi due mesi ha violato gli obblighi della sorveglianza speciale. L'uomo è stato adesso sottoposto agli arresti domiciliari. Cambiamo argomento e adesso parliamo della giornata della memoria. Oggi a Gela è giunta anche Lia Levi, da bambina, ha dovuto affrontare i problemi della guerra e della persecuzione razziale e nel 1943 è riuscita a salvarsi dalle deportazioni, nascondendosi con le sue sorelle in un collegio romano. Una bambina e basta è il titolo del libro scritto da Lia Levi, un racconto autobiografico ambientato durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Il libro nel 1994 ha vinto il premio Elsa Morante. Racchiude al suo interno i grandi temi della guerra, dell'ingiustizia e della definizione del proprio io attraverso una scrittura limpida ed efficace sorretta da una interpretazione genuina come solo quella di un bambino può essere. Oggi Lia Levi è stata presente a Gela nei locali della scuola Salvatore Quasimodo. Nel libro, nel mio libro La bambina e basta, non compare mai il nome della protagonista ed è un espediente perché siccome tutti gli altri nomi l'ho cambiato, perché questo è romanzo, non è memoria, allora non potevo cambiarlo a me stessa, siccome in prima persona, faccio un esempio. Non potevo cambiarlo perché non coincideva poi con l'autore del libro. Allora dico, sono in corsa a questo espediente, io in prima persona non lo richiede. Allora mi dirà, non è questa la cosa più importante, perché ci sono dei contenuti, no? Forse voi aspettavate una risposta di questo genere, però da un punto di vista della lettura vuol dire che non hanno preso solo il fatterello, chiamiamolo fatterello, fatto tragico, ma sono attenti perché non c'è questo nome. La domanda che più mi fanno, naturalmente essendo in un mondo cattolico, lì raccontato un mio tentativo, aspirazione alla conversione a un certo punto del cattolicesimo e i bambini sono un po' colpiti da questo, vogliono sapere com'è finita, insomma. Questa esperienza possa essere utile per fare rivivere ai ragazzi con gli occhi di una bambina, perché il libro di cui oggi Lia Levi parlerà è proprio questo, una bambina è basta, quindi rivive quell'esperienza, lei stessa la rivive dopo tanti anni con gli occhi della bambina che era e quindi soprattutto con la sensibilità di una bambina e quindi anche con l'innocenza, con quelle osservazioni che sono libere da qualunque condizionamento ideologico e credo che da questo punto di vista sia utile. Il terreno educativo è fertile proprio per questo, perché i nostri ragazzi non hanno condizionamenti economici o ideologici, con loro si può parlare liberamente e si può certamente avere la speranza di poter incidere se si fa veramente educazione. Lia Levi sarà presente nel pomeriggio alla Liceo Classico Eschilo. L'iniziativa è promossa dall'assessorato comunale alla pubblica istruzione, retto da Licea Bela. Sono veramente felice di essere qui a portare Lia Levi, che è forse l'autrice vivente più importante che abbiamo per la letteratura sulla Shoah che abbiamo in Italia. E' iniziativa sulla giornata della memoria anche nella scuola Enrico Mattei Gela Butera. Sogni e desideri di un'infanzia spezzata, ho sognato la cioccolata per anni. E' il titolo dell'iniziativa messa in campo oggi nell'auditorium della scuola Enrico Mattei Gela Butera in occasione della giornata della memoria. Il progetto ha coinvolto il club service della città. Non possiamo dimenticare gli errori del mondo, dei cittadini del mondo. Purtroppo non si dovrebbero ripetere certe cose. E senza andare lontano, non so se tutti siamo informati, per esempio abbiamo un eroe di Riesi, che non è mio parente, si chiamava Gretano Butera ed è stato uno dei 330 vittime delle fosse Ardeatine, piccolo eroe. Siamo oggi di nuovo tutti insieme i club service, i sette club, insieme all'Enrico Mattei, la dirigente Agatagueli, per ricordare questo momento e fare riflettere i giovani su questo momento e su questa giornata, per mai dimenticare. La giornata in cui commemorare, per ricordare e dimenticare allo stesso momento. Sembra un contrasto, ma in realtà in questa giornata bisogna ricordare la diabolicità di alcuni esseri umani nei confronti di popolazioni inermi che hanno dovuto subire le atrocità più inimmaginabili, per non dimenticare, quindi commemorare per non dimenticare. La Shoah ricorda un periodo brutto del nostro secolo. Dobbiamo ricordarlo perché di Shoah non c'è solo quello degli ebrei, ma quello dell'Argentina, eccetera, eccetera. Avere memoria storica oggi è fondamentale, soprattutto per i ragazzi, perché da qua a 40 anni non sappiamo ancora la storia che verrà, ma sicuramente gli estremismi stanno aumentando e quindi avere memoria storica è fondamentale. È un momento molto importante, intanto perché ci vede tutti uniti per commemorare, in un certo senso ricordare, ma nello stesso tempo anche dimenticare. Il futuro, i ragazzi dovrebbero anche riflettere su quelli che sono stati gli errori del passato e noi siamo qui per questo, proprio per fare riflettere loro, i giovani. L'obbligo è un nemico della nostra società. Bisogna ricordare e trasferirlo anche alle future generazioni. I ragazzi di oggi devono capire, devono interpretare quello che è successo in anni bui del secolo passato. Questa mattina sono intervenuti, tra gli altri, Stefania Pagano, responsabile dell'associazione Meter di Gela, ed Angela Rinsivillo, docente di storia e filosofia. L'infanzia spezzata può essere anche nella loro realtà e quindi quello che loro dovrebbero cercare di fare per impedire a tutti che questa loro infanzia sia denigrata e sia rovinata. I genocidi nella storia non sono finiti con la Seconda Guerra Mondiale. Continuano ad esserci, così come continuano ad esserci lager. E il messaggio che oggi, per quello che mi riguarda, cerco di inviare ai giovani è quello di combattere la sopraffazione dell'uomo nei confronti dell'altro uomo. Il dirigente scolastico Agatha Guelli. Durante la settimana gli alunni hanno letto un libro pubblicato tanti anni fa di Trudy Berger, un'ebrea tedesca, che aveva vissuto personalmente la tragicità della deportazione e il libro dal titolo Ho sognato per anni la cioccolata. Altra iniziativa si svolta questa mattina nell'Istituto Comprensivo Giovanni Verga. Non basta ricordare, né basta una giornata da dedicare alle vittime di tutti i totalitarismi. La memoria e la commemorazione hanno senso solo se il ricordo fa scaturire una profonda comprensione del male insito nella tragedia, un impegno alla non reiterazione, al rispetto dell'altro, alla condivisione di un progetto di un futuro positivo proteso ai valori democratici. È il messaggio che parte dall'Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Gela, diretto da Viviana Aldisio. Oggi gli alunni nell'auditorium del presso di Via Salonicco hanno celebrato la giornata della memoria, al fine di ricordare la Shoah, la storia della deportazione e dello sterminio del popolo ebraico nei campi nazisti. Oggi i ragazzi hanno messo in piedi quello che è un lavoro che hanno preparato nei giorni precedenti. Un dovere della scuola è quello di sensibilizzare queste giovani generazioni a crescere in termini di sensibilità e di senso critico nei confronti di quanti nella storia hanno sicuramente determinato delle pagine buie dalle quali si vorrebbe tutti uscire. Rispetto all'oscurantismo che comunque in parte ancora oggi ci circonda. Motivo per cui educare le giovani generazioni a criticare il passato, per vivere un presente e superare anche il buio dello stesso presente sicuramente fa maturare nei nostri alunni una personalità, una identità completa. La drammaticità della narrazione realizzata oggi dai ragazzi ha mostrato la loro profonda riflessione storica maturata nel corso di una serie di attività svolte in classe nel corso dell'anno scolastico mirate alla maturazione di una educazione autenticamente democratica. Questa mattina sono stati impegnati gli alunni della scuola secondaria di primo grado nella drammatizzazione di testi poetici, brani della letteratura, canti, coreografie per commemorare le vittime dell'olocausto e lanciare un messaggio di speranza rivolto al mondo intero per non disperdere il patrimonio dei fatti della storia, per evitare l'indifferenza. Stiamo rappresentando appunto gli angeli che sono morti, gli ebrei, che sono morti durante appunto questa guerra e vogliamo dare un insegnamento, vogliamo far capire che comunque quello che è stato fatto è sbagliatissimo e dobbiamo spiegare come invece dovrebbe andare il mondo. Non ci sono razze inferiori, siamo tutti uguali e che bisogna imparare a convivere con chi è diverso da noi. Un messaggio che abbiamo lanciato e che è anche molto importante è quello di scendere dal piedistallo su cui molte persone si pongono perché proprio per questo molte volte la gente viene discriminata. Un convegno sul tema lo sviluppo economico e comunitario è stato organizzato dall'Istituto Scolastico Luigi Sturzo di Gela in collaborazione con il Rotary Club. L'iniziativa si darà domani alle 10 nell'Aula Magna dell'Istituto dopo i saluti del Vice Sindaco e Presidente del Rotary Club Simone Siciliano del dirigente scolastico Grazio Di Bartolo della Sindaco Messinese e del Presidente dell'Ordine Commercialisti di Gela Giuseppe Giudice interverranno Giuseppe Nicoletti Presidente del Club Unesco di Gela che relazionerà su sviluppo economico e valorizzazione dei beni culturali Giuseppe Di Taranto, professore ordinario alla LUIS Guido Carli di Roma e autore del libro L'Europa Tradita ed infine Emilio Giammusso, docente di Psicologia del Lavoro presso l'Università degli Studi di Palermo modellerà i lavori Giorgio De Cristofolo. Le famiglie residenti nel comune di Gela possono presentare istanza per l'ottenimento del sostegno per l'inclusione attiva. La misura di contrasto alla povertà prevede un sussidio economico ai nuclei familiari economicamente svantaggiati subordinato all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. Possono presentare istanza le famiglie economicamente svantaggiate nelle quali siano presenti minorenni, figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata con un'isee inferiore o uguale a 3.000 euro. I cittadini interessati, in possesso delle requisite richiesti e che non abbiano già inoltrato istanza potranno continuare a presentare le domande direttamente al protocollo generale del comune di Gela. Per scaricare l'avviso e il modello dell'istanza è possibile consultare il sito del comune oppure ci si può rivolgere all'ufficio di segretariato sociale in Viale Mediterraneo, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Fai la cosa giusta, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi venerdì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso. Pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. L'organico deve essere depositato all'interno del sacchetto compostabile dalle 22 alle 5, anche nei giorni di domenica, martedì e giovedì. Un ambiente pulito e sano, basta un piccolo gesto. Rieccoci seconda parte del telegiornale che apriamo parlandovi del seminario sugli strumenti e tecniche di gestione sociosanitarie rivolti agli anziani che si svolto oggi nell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Management Casa dell'Anziano Fragile, strumenti e tecniche di gestione sociosanitarie. Si tratta del seminario di studi che si svolge oggi e domani nell'auditorium dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. All'evento formativo ha partecipato Ferdinando Schiavo, neurologo ed autore del libro Malati per forza. Adesso devo scrivere un altro, ciabatte rosse, perché si parla tanto delle scarpette rosse, le donne uccise da questi imbecilli di uomini, però ci sono tante donne anziane che muoiono a casa, ma nelle case in ospedale e in casa di riposo, sono i dati del Ministero della Salute, parlano di circa 90 persone al giorno che muoiono in ospedale. Io tratto le malattie da farmaci, ma non di tanti. A volte può bastare un farmaco solo, un farmaco anche normale di quelli che usiamo. Esempio, il Plasil è un farmaco che può far bene, ma non puoi nell'anziano prolungarlo più di tanto, può dare parkinsonismo, ad esempio. I lavori questa mattina sono stati moderati da Vincenzo Cascio. L'anziano fragile è un nuovo fenomeno emergente che necessita di un intervento specifico e soprattutto della gestione su diversi ambiti. Essendo un fenomeno complesso, richiede una gestione su diversi livelli e diversi ambiti. E quali sono questi ambiti e livelli? Gli ambiti e livelli riguardano la parte sanitaria, sociale, sociosanitaria e interventi anche di comunità. Ma non sarebbe importante che invece l'anziano venisse accolto dalla propria famiglia? La famiglia può essere una risorsa, ma non sempre è così. Il seminario di studi per assistenti sociali, psicologi, sociologi, educatori ed operatori sociali è stato promosso dalla Fondazione Antonietta e Salvatore Aldisio. La Fondazione Antonietta e Salvatore Aldisio ha a cuore quelle che sono le tematiche sociali, quindi oggi in particolare questo tema sull'anziano fragile sicuramente. Ma le problematiche sociali sono di varia natura, probabilmente in futuro, in breve termine, verrà messo in atto un altro seminario che ha lo scopo di trattare le patologie da dipendenze, che è un tema molto scottante visto che le dipendenze sono di varia natura, tra cui quella del gioco che appunto è generalizzata. Comunque, sottostante a tutto, è la volontà della Fondazione di permettere di dare agli operatori sociali gli strumenti per migliorarsi in continuazione e metterli a disposizione della società. La pubblica assistenza Trinacchia Emergency, già a Giubbe d'Italia, apre le iscrizioni per diventare volontari. Presso la sede della pubblica assistenza in via Falcone, contratta a Brucazzi a Gela, il 7 febbraio inizierà il nuovo corso gratuito teorico-pratico per aspiranti volontari del soccorso aperto a tutti i cittadini di entrambi i sessi che abbiano compiuto almeno 16 anni. Durante il corso saranno trattati argomenti sanitari di primo soccorso, protezione civile, diritto, conoscenza delle attrezzature, dei presidi presenti sulle ambulanze e prove pratiche. Per informazioni c'è un numero telefonico 0933 91 44 19. Si intitola Passaggio in Sicilia il libro di Massimo Nofri, professore ordinario di letteratura italiana all'Università di Sassari, che sarà presentato mercoledì 1 febbraio alle 17 nella sala conferenze del liceo scientifico Elio Vittorini di Gela, diretto da Angela Tuccio. L'iniziativa è della libreria Mondadori in collaborazione con l'Istituto Scolastico. Introdurrà e modererà i lavori Lina Orlando. Dialogherà con l'autore Ivo Abela. Ridurre il fenomeno del randagismo in città ed incentivare le adozioni di cani randaggi sono questi alcuni degli obiettivi da raggiungere attraverso un protocollo di intesa. Protocollo al centro dell'incontro tra l'assessore alla tutela degli animali e il randagismo Felice Dierna, il comandante della Polizia Municipale di Caltanissette e la sesta commissione consigliare. Sarebbe dunque in dirittura d'arrivo il protocollo che dovrà poi essere approvato in giunta e che è stato elaborato anche a seguito di incontri avuti con le associazioni animaliste. Il primo punto è che il comune possa, una volta effettuato il trasferimento nell'attività scuola elementare del comando della Polizia Municipale, mettere a disposizione un ufficio dove segnalare tutti gli interventi da parte del cittadino e dove sarà occupato da dei volontari che sicuramente metteranno a disposizione delle persone e ringrazio pure le varie associazioni che hanno dimostrato grande sensibilità alle associazioni ovviamente animaliste. Il secondo punto importante è che il comune andrebbe a riborsare per favorire l'adozione dietro ovviamente delle fatture che presenterebbero chi vuole ottenere un cane, e quindi anche gli stessi componenti delle varie associazioni, proprio per favorire queste adozioni che riteniamo che sia un passo importante proprio per attenuare il randaggismo della nostra città. Un altro fatto anche molto importante, non di minor conto, è che come comune metteremo a disposizione dei terreni per chi, come tante associazioni che operano in questo settore, volessero fare richiesta al comune di avere in affido un terreno proprio per le cucciolate, le cosiddette cucciolate che oggi come oggi vengono abbandonate nelle nostre strade cittadine per poi essere portate al ricara, appunto al canile. Siccome appunto il ricara non dovrebbero andare a finire lì i cuccioli, quindi l'intenzione è di dare questo terreno in modo tale che le cucciolate abbandonate possono essere ovviamente curate, volessero gestite presso questo terreno che, come ho detto, le associazioni potrebbero richiedere. Un altro aspetto anche importante, ritengo fondamentale, sia proprio come tutti, diciamo, le associazioni che abbiano collaborato e di cui ringrazio ovviamente tantissimo tutte le varie associazioni, ma anche e soprattutto l'ASP perché successivamente andremo a fare un protocollo di intesa con l'ASP, ASP che effettuerà e si riaprirà a Contrada Buccelli chiusa da un paio di anni, proprio dove in Contrada Buccelli si andrebbero a fare l'esterilizzazione delle colonie feline dei gatti perché è stata istituita a Catanissetta la prima colonia felina, ma anche dei cani randaggi dove i veterinari dell'ASP hanno assicurato i loro interventi proprio per cercare di tamponare, cercare di dare delle risposte sicuramente a questo fenomeno che ci sta assunto dei rilievi molto importanti e di cui ovviamente ne stiamo tenendo conto. Ultimo appuntamento dell'83 stagione concertistica gelese promossa dall'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra, domenica 29 gennaio alle 19, nei locali del Palazzo della Cultura Principessa Vignatelli Roviano si trarà il concerto del duo Maria Natalia Ruscica Violino e Simone Campanella Pianoforte. Abbiamo parlato della giornata della memoria, proprio in occasione della giornata della memoria, oggi al Cineteatro Antitolo di Macchitella a Gela è proiettato il film Il Viaggio di Fenni, sono tre gli orari, 17.30, 19.30 e 21.30. Con la pagina dedicata allo spettacolo noi chiudiamo le informazioni di oggi, vi ricordiamo sempre che il nostro sito online a tg10.it è costantemente aggiornato. Grazie e arrivederci. Grazie.